Mi hanno spedito una roba senza che abbia pagato un centesimo, proprio così. Adesso vi spiego com'è successo. Allora, siamo un po' in veste più informale rispetto ad altri video per raccontarvi questa esperienza che va proprio a mettersi all'interno di qualcosa che ho parlato in un altro video che lo posso linkare qui sopra o qui sotto, insomma, trovate da qualche parte rispetto al sistema di fiducia che c'è in Svizzera e che in Italia assolutamente non c'è poi dipende, alcune zone di più, alcune zone di meno, in Italia dico però in Italia diciamo che si è abituati a essere molto diffidenti nei confronti degli altri Cominciamo a mettere i punti sui link sia a livello personale, sia a livello, a maggior ragione, di business, quindi di aziende quindi di quello che è l'acquisto, di beni, servizi e via dicendo Cosa è successo? Vi racconto come ho fatto ad avere della roba per cui non ho pagato un centesimo per averla spedita e adesso vi spiego nel dettaglio ovviamente concedetemi il titolo un po' così, come si dice, come si dice, clickbaiting clickbaiting, ecco, concedetemi il titolo così, adesso vi spiego nel dettaglio come sono andate le cose avevo bisogno di un pezzo per il bagno, insomma qui dell'ufficio e quindi ho cercato questo pezzo online e ho trovato un'azienda che lo vendeva perfetto tutti i suoi codici e via dicendo vado per ordinarlo come qualsiasi sito, preparo la carta, paypal o quello che è e non c'è l'opzione, non si può pagare e dico, ma come non si può pagare, come faccio a fare lo sveglio, non devo mica telefonare poi questa è un'azienda anche nella Svizzera tedesca e dico, come faccio qui, e no, c'era scritto l'opzione fortunatamente tedesco capisco e quindi leggo, viene inviata insieme al pezzo, viene inviata la fattura e ho detto, come la fattura? beh, questi si fidano a mandare il pezzo e poi se io non pago la fattura? e loro spediscono il pezzo senza che io abbia pagato cioè questa è una roba che in quel momento ho detto no, ma non è possibile, allora sarà una truffa cioè subito io, l'abitudine è no, ma sarà una truffa, non ti spediranno il pezzo e poi ho pensato, no, perché è una truffa? cioè io cosa rischio? non rischio sarà un contrassegno, cioè che non posso ritirare il pacco se non do i soldi al postino no, il giorno dopo mi è arrivato il pezzo questo era più o meno le due di pomeriggio il giorno dopo già il pezzo con la posta semplice, pacco 7 franchi posta semplice, il pezzo era nella mia cassetta dei pacchi sotto vado a ritirare, c'è una bella busta con scritto caro signor X ecco il suo pezzo e poi c'è la famosa fattura che qui sono delle polizze arancioni di pagamento molto semplici insomma ci sono tutti i dati che questo ve ne parlerò in un altro video di come si pagano le cose qui che è diverso dall'Italia, fra cui anche le tasse e io devo pagare questa roba ma intanto ce l'avevo già in mano, potevo usarlo ok? quindi mi hanno spedito questa roba senza aver pagato un centesimo e voi dite, sì ma vabbè anche in Italia ci sono le aziende che fra di loro si spediscono la roba perché poi ci sono 90 giorni, 60 giorni no ma questo non è un contratto, ho fatto un click io potevo anche essere un qualcuno fittizio che ho dato un falso nome cioè poteva essere chiunque e questi mi hanno spedito la roba e si sono fidati che io avrei pagato cosa che ho fatto ovviamente nel minuto dopo che ho aperto la busta oh, lo vogliamo pagare perché abbiamo sempre ragazzo però capite, capite qual è la differenza di cui parlavo proprio in questo video che vi ho linkato e vi ho detto prima fra la mentalità e la fiducia, il sistema di fiducia che c'è qui e quello che è il sistema purtroppo di diffidenza, di sconforto di metterselo in quel posto a vicenda che purtroppo c'è in Italia e in alcune zone anche di più che nella media quindi questa è una cosa che vi ho raccontato è una cosa che vi ho condiviso proprio per farvi capire che questo è un altro mondo e quando si arriva in quest'altro mondo bisogna fare uno switch bisogna cercare di cambiare mentalità perché quando si entra all'interno di un paese con una cultura diversa con persone diverse eccetera questo è quello che bisogna fare per integrarsi per riuscire ovviamente ad avere poi una vita anche sociale soddisfacente e felice perché poi anche questo e vi lascio tutti gli italiani che mi hanno detto io tornerei torni significa che tu non hai mai lasciato quello che è la tua mentalità la partita è chiusa quando si vive in un posto bisogna sapersi integrare dal punto di vista culturale perché se no non ha nessun senso se no sei andato lì semplicemente perché sei stato obbligato ma questo non è quello che consiglio di fare chiaramente quindi è anche uno dei motivi per cui lavoro e noi come società di consulenza lavoriamo praticamente solo con imprenditori, libri professionisti che hanno la volontà di trasferirsi e che non è che si trasferiscono per cercare lavoro perché sono disperati e perché sono obbligati ad andare a un'altra parte quindi questa è un po' una spiegazione poi può essere una scelta più o meno criticabile questo ve lo lascio a voi pensare quindi fate un po' quello che volete noi ci vediamo nel prossimo video